Sapevamo che Malo era una squadra molto tosta, è arrivata prima nel giro Lea. Noi siamo partiti un po' male, soprattutto in seconda fase, che è il nostro punto di forza, oggi non siamo andati benissimo, ma siamo stati bravissimi a trovare altre soluzioni che ci hanno permesso di restare in partita fino alla fine. Abbiamo fatto tantissimi errori, soprattutto al tiro, il loro motore ha parlato da tantissimo e noi non abbiamo giocato. Però siamo stati lì fino alla fine, ci abbiamo creduto e gli ultimi minuti erano quelli più importanti. Siamo stati bravissimi, non abbiamo perso le palle, rispetto a quante abbiamo pensato prima, siamo contenti. Adesso iniziamo a venerdì, che sarà un'altra battaglia e domani il giro così. Abbiamo iniziato bene la partita, nei primi cinque minuti eravamo anche con 1-3 a 0, siamo partiti, molto bene concentrati. Dopo sapevamo che Cingoli, essendo una squadra già con Ispires in A1, reagisce in tutto questo. Eravamo concentrati fino alla fine, sono mancato un po' i tiri dai 6 metri, non eravamo precisi, abbiamo sbagliato tanto. Così queste partite si gioca fino alla fine, se non sei concentrato negli ultimi cinque minuti della partita non puoi fare tanto. Adesso concentrati, per la prossima domani che giochiamo contro la Zara. Speriamo che vada tutto bene, ci organizziamo e domani giochiamo più forte. Grazie a tutti.